11esima giornata del campionato di eccellenza l'Aquila arriva al Petruzzi dopo il pareggio polemico con l'Avezzano senza sei titolari. La Renato Curi angolana cerca continuità dopo la splendida vittoria di domenica scorsa a Francavilla. Schieramenti speculari per Rachini e Giampaolo 4-3-3. Rosso-Blu subito imbrigliati, Nerazzurri gran ritmo e aggressivi, Farindolini e Milizia centrocampo dettano i ritmi e al 21esimo è proprio il numero 8 a pennellare un bel pallone. Velo di Cichella centroarea per la corrente Miani che insacca alle spalle di Bozzi. Nuovamente i padroni di casa pericolosi, al 28esimo Farias va via sulla fascia sinistra e mette a cento un traversone insidioso che il portiere ospite blocca prima dell'intervento degli avanti angolani. L'Aquila prova a reagire a minuto 32, conclusione dai 30 metri di Ponzi, Puddu blocca senza particolari problemi. Nuovamente Nerazzurri pericolosi al 38esimo, Farias conclude a rete, grande intervento di Bozzi che mette in calcio d'angolo. Occasionissima l'Aquila al 60 secondi dopo capovolgimento di fronte, Ranieri serve un bel cioccolatino per Dercole che però sciupa la palla mandando a lato. Ancora Dercole pericolosa ma la traiettoria del numero 7 sfiora soltanto l'incrocio dei pali. Minuto 46, Milizia lancia a campo aperto, Farias superlativo, Bozzi che con la punta delle dita mette in calcio d'angolo e sugli sviluppi del corner arriva il 2 a 0. Ancora una volta Farindolini per il numero 10 che questa volta non sbaglia e fa 2 a 0. Con le immagini montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa, Gianpaolo lancia a costa per Tankulic. Di Norcia prova a scuotere i suoi, la botta viene deviata con i pugni da Puddu. Al 18esimo minuto Angolan vicino al Tris, tiro cross di Ruggeri che scheggia la parte superiore della traversa. Bozzi con la mano di richiamo, stop la conclusione di Bomber Miani ma il gol del 3 a 0 è solo rinviato. 180 secondi, calcio di punizione per l'arenato Curi angolana. Cichella dalla distanza direttamente in porta e Bozzi si fa trovare impreparato e al Petruzzi è apoteosi. Ci prova il cignolo di Taranto, Ranieri al minuto 33, il suo sinistro al lato. Lo stesso numero 9 al 47esimo, c'entra la traversa servito da Acosta. Questa è l'ultima emozione della gara al triplice fischio finale e festa sugli spalti per l'arenato Curi angolana. Mentre i tifosi ospiti contestano la propria squadra. Per lei è una gara difficile da commentare, è vero c'è l'alibi delle tante assenze, la delusione di domenica scorsa, però forse la sua formazione oggi è mancata totalmente in questa gara. Quando non hai fame e voglia di vincere poi le partite sono tutte difficili. Oggi c'era una formazione dove molti giocatori dovevano dimostrare il proprio valore perché avevamo tante assenze. E qui poi in campo si vede se effettivamente sei un giocatore importante o no. Abbiamo sbagliato completamente la partita, loro erano più vogliosi, erano più cattivi. Poi se non hai la cattiveria di recuperare la palla abbiamo avuto l'occasione con Dercole, ma troppo poco, troppo poco, cambiando anche con i due attaccanti trequartista abbiamo creato pochissimo. Loro hanno vinto meritatamente perché hanno avuto più voglia, hanno avuto più coraggio. Spero che questa gara ci sia di insegnamento perché se vogliamo fare un campionato di vertice dobbiamo cambiare assolutamente mentalità. Grazie mille. Di facile non c'è niente nel calcio. Sapevamo di affrontare comunque una squadra con tanta qualità, una squadra costruita per vincere, quindi devi fare determinate cose. Abbiamo lavorato sulla compattezza di squadra, quindi comunque di non allungarsi mai. Penso che i ragazzi per 96-97 minuti l'hanno fatto e abbiamo rischiato pochissimo dietro. E comunque poi quando siamo ripartiti abbiamo le idee chiare su quello che fare. Ma soprattutto si è visto un'angolana che subito dall'inizio ha pressato altissimo e sembrava avere fame, quella fame che diceva il suo collega che è mancata la sua squadra. Sì, ma noi abbiamo lavorato da tre mesi per cercare poi di arrivare a fare questo tipo di prestazioni. Ovviamente non sempre ci si riesce, ma io ultimamente la mia squadra l'ho vista sempre fare queste cose qui, tranne una partita, quella di Giulianova, dove forse abbiamo toppato sotto tutti i punti di vista. Penso che poi la mia squadra gioca, crea, però adesso ha iniziato anche ad essere più compatta e ad essere più cattiva, che è quello poi che fa la differenza.